Sabato 21 ottobre è iniziata la diciottesima edizione di Ballando con le stelle. Quest'anno il cast è formato da VIP molto conosciuti. Simona Ventura, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Lino Banfi, Vanda Nara, Rosanna Lambertucci e... Nella prima puntata Teo Mammucari è stato tra i protagonisti più acclamati grazie a quel tocco di divertimento che ha saputo dare al programma. Ha rivolto battute a Millie Carlucci, Selvaggia Lucarelli e in particolar modo a Rosanna Lambertucci. Che è stata presa in giro più volte. Ovviamente con tono ironico. In questi giorni su Rai Play vengono caricate le puntate di Ballando Segreto che consistono in chiacchiere tra Millie. Gli autori e i protagonisti di questa nuova edizione. Con i loro ballerini. In particolare. Teo Mammucari ha fatto una battuta su Simona Ventura. Chiamandola, Paola. Il conduttore ha iniziato facendo un discorso sul quanto fosse più facile vincere per una concorrente donna piuttosto che il contrario. Poiché l'uomo deve saper portare. Cosa che la Carlucci ha smentito. Millie devo dire una cosa ha esordito Mammucari parlando con la maestra ha detto una cosa sacrosanta. Noi maestre abbiamo vinto una volta sola. Mentre gli uomini tre quarti volte. Perché gli uomini accompagnano le donne. Mentre a lei dovrei portarla io e quindi è più penalità. A ciò la conduttrice ha contrabattuto. Sai qual è la risposta? Nella coppia è la donna quella che fa tutta la bellezza di quello che succede. Quella che fa acrobazie. Linee. Quando la donna è un palo di scopa. E qui. Mammucari. Si è lasciato andare ad una battuta. Stai offendendo la ventura. Guardala. Come per dire. È un palo di scopa. Sai di chi parlo. Che persona. La Carlucci ha negato. Ma non sono mancate le risate da parte sua e degli autori.